Bentornato, negli studi di Temparadio diamo al sindaco di Castiglione dell'Estiviere, Enrico Volpi. Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, noi gli ascoltatori li invitiamo ovviamente a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo il numero per mandare sms e messaggi whatsapp che è il 348-318-339 e anche quello per chiamarci 0376-63-1709. Allora, lei ci ha fatto questa sorpresa, ci vuole parlare giustamente di qualcosa di molto importante. Non era prevista la diretta di stamattina, ringrazio Temparadio che me ne dà la possibilità e ho un paio di informazioni abbastanza importanti da dare che credo siano sufficientemente emergenziali. Una è legata alla situazione che sta diventando abbastanza problematica legata alla guerra in Ucraina o naturalmente come amministrazione confermiamo la nostra assoluta contrarietà a questo conflitto e sollecitiamo tutte le forze politiche a richiedere la sospensione immediata delle delle ostilità e dei bombardamenti. Il problema però è che in questo momento ci dobbiamo trovare ci troviamo ad affrontare l'emergenza legata a chi sta scappando dall'Ucraina. approfitto della comunicazione via radio per dire alle famiglie di Castiglione che si stanno attivando e sono già parecchie che hanno accolto profughi dall'Ucraina, magari parenti di collaboratrici domestiche che sono presenti in Italia oppure di originari ucraini che sono residenti a Castiglione e che hanno accolto generosamente le persone presso le loro abitazioni evidenzio che nessun comune ha in questo momento disponibilità di alloggi sufficienti per la richiesta che sta montando. Quindi ci si sta attivando a livello provinciale, a livello locale per la ricerca di sistemazioni ma per il momento certamente le persone che sono accolte presso le famiglie che le hanno invitate a portarsi verso l'Italia dovranno sostenere questo sforzo ancora per un po' di tempo. Ci stiamo attivando come comune per una raccolta fondi che seguirà gli stessi canali identici della raccolta fondi che era stata attivata per il covid e che metterà a disposizione metterà a disposizione delle risorse economiche per sostenere queste iniziative di privati. Quindi tra poche ore comunicheremo il conto corrente sul quale potrà essere fatta qualche elargizione di denaro a sostegno dei profughi presenti sul nostro territorio e altrettanto attiveremo nelle prossime ore una raccolta alimentare presso lo spazio di comunità ex banco di comunità gestito da Siamo in Rete con il quale anche in questo caso sosterremo le famiglie che sono arrivate in questa situazione. Quindi invito tutti a pazientare, mantenere questa entusiastica voglia di eh sostenere e eh aiutare i profughi ehm ma di non venire in comune a cercare soluzioni di alloggio perché in questo momento di soluzioni di alloggio non ce ne sono a Castiglione come a Mantua come in nessun comune della provincia. Questa era una comunicazione che volevo fare eh ci stiamo muovendo ma i tempi sono quelli legati anche all'emergenza. E poi ci sono anche dei progetti nuovi no? Giusto? Anche finanziamenti che stanno arrivando. Sì, usciti da questa problematica l'attività comunale sta andando avanti in maniera intensa e ne approfitto per comunicare che proprio eh nella serata di ieri c'è stato comunicato la concessione di cinquecentomila euro di finanziamento che vengono per un primo stralcio dell'intervento sulla ex casa del fascio e che e che quindi ehm cominceremo a eh organizzare per per questo intervento che vanno a fare il paio con i cinque milioni di euro che sono arrivati per la restiturazione di Palazzo Zappaglia di tutto il complesso di via Zanardelli e del palazzo posteriore a Palazzo Zappaglia che anche lì eh porterà una grande ripresa all'interno del centro storico Castiglione e per ultimo comunico che il lunedì quattordici ehm andremo in consiglio comunale per approvare in consiglio comunale la convenzione quadro che eh è stata approvata già dalla commissione urbanistica con Aler che concederà consentirà ad Aler di partire con le gare di ehm ricerca del soggetto attuatore per il recupero della struttura di tutta l'area dell'ex OPG mh tredici mila e duecento metri quadrati mi sembra di ricordare la cifra ma comunque è un complesso gigantesco all'interno del centro storico Castiglione che da oltre trent'anni è un bubone che va risolto eh lì sicuramente avremmo un recupero di un'area verde importante un recupero di una viabilità altrettanto non esistente in questo momento ma ehm della quale necessita assolutamente la città di Castiglione e eh una disponibilità di parcheggi e una residenzialità di pregio interessante al centro al centro della città quindi un intervento risolutivo che credo sia molto significativo. Eh sono delle delle novità che credo siano interessanti per tutti e che dimostrino che la continuità dell'attività sull'amministrazione è fondamentale tutti questi progetti purtroppo arrivano a scavalco di due mandati è necessario tenere il punto per poterli portare avanti in maniera coordinata e completa perché sono molti anni che stiamo attendendoli e quindi sarebbe un peccato perdere queste queste occasioni che ci sono date anche da una discreta disponibilità economica. Allora le sono arrivati i messaggi eh sì. Anche all'improvvisata. Eh infatti eh vediamo se ma non dove esserci bignotti in diretta. Sì è qua fuori che mi ha concesso cinque minuti di spazio e lo ringrazio. Non è che vuoi portarvi al posto lui diceva l'ascoltatore. no 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 no. Allora volpi non sicuri dei bolscevichi dice Francesco. Ma guardi. Però non è. Non è in questo momento. Sono talmente tante le situazioni all'ordine del giorno che eh passano il secondo piano o qualsiasi tipo di anche di competizione politica. Poi ancora sinaco quando è che aprirete le piazze le chiedono poi ancora bravo sinaco dai che riesce a essere eletto per il secondo mandato. Grazie. E ancora volpi. È vero che non si candida nessun altro? Non le sembra di vincere facile? Io penso proprio che si candiderà anche qualcun altro. Cioè sarebbe sarebbe un peccato per Castiglione non avere una proposta alternativa e una minoranza adeguata. Poi non adesso non entriamo nei tecnicismi ma non è vincere facile tra l'altro. No non è neanche vincere facile. Esatto si complicano le cose. Adesso non andiamo a spiegare le leggi ma allora volevo sapere se controllate le giostre. Sì le giostre le controlliamo eh abbiamo già notato che l'afflusso è fortissimo il desiderio della gente di essere presente eh a manifestazioni eventi di questo tipo dopo due anni di reclusione praticamente è molto forte stiamo sollecitando tutti a mantenere i presidi di sicurezza i distanziamenti le norme di sicurezza perché sì il covid ha allentato un po' la sua presa ma è presente e bisogna assolutamente non abbassare la guardia. Assolutamente e poi anche del distretto alimentare anche. Il distretto alimentare è una discussione una eh una valutazione che si sta facendo da molto tempo a Castiglione e Stivieri il problema del distretto alimentare è legato al fatto che i distretti alimentari sono riconosciuti sulla filiera e quindi su quello che è tutto il mondo legato a una produzione tipica. In questo caso ehm perché per esempio si sposa benissimo al mondo della calza eh che che a Castelgofredo ha individuato il distretto della calza. A Castiglione abbiamo delle grandi aziende alimentari che però non hanno niente in comune tra di loro. Quindi eh la la società che fa i biscotti ha tutto un indotto e una filiera che non ha niente a che vedere con la società che fa il latte e non ha niente a che vedere con la società che fa le patatine. E quindi è molto difficile che venga riconosciuto un distretto alimentare dal momento che non è possibile individuare una filiera un indotto che parte dalla materia prima e arriva al prodotto finito in maniera eh in maniera assolutamente diffusa sul territorio. E questo è il motivo per il quale fino adesso le interpelli e le interrogazioni che abbiamo fatto a Regione Lombardia e agli enti superiori hanno sempre dato da esiti negativi. Allora guarda che alle gioste c'è un po' di confusione per favore prendo provvedimenti. È vero è vero è vero. Beh questo è credo sia anche normale. Allora eh siamo in chiusura io ringrazierei appunto il sindaco di Castiglione dell'estiviera Enrico Volpi grazie per l'improvvisata. Ringrazio voi ringrazio il sindaco Bignotti che mi ha dato qualche minuto di spazio e ripeto invito tutti a mantenere alta l'attenzione per quelle che saranno le iniziative di solidarietà che stiamo portando avanti per ehm aiutare e sostenere eh le persone che stanno fuggendo dall'Ucraina e ehm per fare in modo che non siano eh risorse buttate nel pozzo o non siano aiuti che poi non possono essere coordinati e non possono arrivare a destinazione.